Drangheta Banking, questo è il nome dato all'operazione che questa mattina ha condotto all'arresto di 17 persone sull'asse della malavita Reggio Calabria Milano con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività creditizia e intestazione fittizia di beni, tutti reati aggravati dalle finalità mafiose. Secondo gli inquirenti, il GOTA delle Cosche Regine e della Piana di Gioia Tauro aveva creato e gestiva un sistema creditizio parallelo per imprenditori in difficoltà da prendere alla gola. A scoperchiare il pentolone in cui ribolliva il liquido nefasto dell'usura i carabinieri del ROS che nella loro indagine hanno fatto confluire anche le risultanze della DIA di Milano. Il sistema vedeva seduti alla invitante tavola imbandita dalle principali indrine calabresi Condello, De Stefano, Tegano, Imerti e Buda di Reggio Calabria, Pesce e Bellocco di Rosarno anche realtà andranghetiste lombarde come la locale di Lonate e Pozzolo o appartenenti alla criminalità comune. In mezzo gli imprenditori calabresi e lombardi individuati dai colleghi collusi con gli ambienti andranghetisti delle due regioni. Tra questi spicca la figura di Gianluca Favara, imprenditore nel settore della distribuzione per alberghi già coinvolto in altre inchieste contro le Cosche Regine e Lombarde. Era lui il coordinatore delle ricerche per individuare gli operatori economici con l'acqua alla gola e a cui proporre prestiti a tassi usurai anche del 20%. Quando non riuscivano a pagare scattavano le intimidazioni e le Cosche acquisivano in cambio del dovuto i loro beni immobili. L'operazione andrangheta banking conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo sconfinamento ormai consolidato degli interessi delle Cosche calabresi nel nord Italia e in Lombardia in particolare. Dei 17 arresti di questa mattina, di cui 7 ai domiciliari, 12 sono stati eseguiti in Calabria e 5 a Milano. Grazie per la visione!